Ciao, qui Matteo Bellini di Chef del Benessere, ti do il benvenuto anche oggi nella mia videopillola mattutina, nella quale per la rubrica spezziamo ti voglio parlare della citronella. La citronella ha origine in India, Sri Lanka, Brasile e Africa occidentale. Nella citronella si utilizzano le foglie, che contengono oli essenziali e altre sostanze aromatiche. Viene impiegata nel condimento di piatti non molto elaborati, a base di carne o di pesce, ma anche in zuppe, minestre, condimenti per rosti e dessert. Viene venduta in bastoncini freschi, in foglie essiccate oppure in pezzi. Stimola l'appetito ed è inoltre un ottimo corroborante. Nella medicina popolare indiana è usato anche come antipiretico. Io ti consiglio di spezzettare e cuocere la citronella solamente al momento dell'uso. Ah, inoltre la citronella non ha niente a che fare con il comune limone. Con quest'ultimo però in comune ha una cosa. L'olio essenziale, citronella poi, è famosissima perché viene utilizzata in moltissimi prodotti contro le zanzare. Molto bene, anche per oggi ti ho detto tutto. Io come sempre ti ringrazio di avermi seguito, ti mando un grosso abbraccio, ti auguro come sempre buona cucina e ti do appuntamento a domani con la prossima videopillola, sempre alle 8, sempre con me. Ciao! Ciao!